E' stato un percorso lungo e difficile, un'opera che la città tendeva da decenni, su cui in passato erano state spese tante promesse mai realizzate, che finalmente con orgoglio vedrà la luce sotto la guida della nostra amministrazione comunale. Con queste parole il sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri ha espresso soddisfazione per l'imminente inizio dei lavori da parte di ANAS della rotatoria tra la statale 16 e la strada statale 424 per Golese. Il ringraziamento come amministrazione comunale va all'ANAS per la collaborazione e anche per aver considerato strategica quest'opera importante per tutti i residenti e non solo e ringraziamento anche agli uffici comunali e tecnici per il grande lavoro di squadra sin cui compiuto. La rotatoria ci permetterà di migliorare la viabilità esistente, quindi eliminando gli attuali semafori e sarà sicuramente un'opera che contribuirà a migliorare anche l'immagine della nostra città. Il progetto avviato con lo schema di convenzione sottoscritto nel novembre 2020 comprende anche la realizzazione dell'isola centrale degli sparti traffico, il rifacimento del manto stradale, un marciapiede per consentire ai pedoni l'attraversamento, l'illuminazione pubblica, l'adeguamento del sistema fognario con l'incremento dei punti di raccolta delle acque ed infine la nuova segnaletica e la realizzazione di parcheggi a servizio di attività e residenti. L'importo totale dei lavori finanziato da ANAS è di 475 mila euro, la progettazione e il finanziamento dell'opera è appunto a carico di ANAS, così come la realizzazione dei lavori, mentre il comune si è occupato della parte spropriativa, quindi di mettere a disposizione le aree di proprietà dei privati. Quando inizieranno i lavori e quanto dureranno più o meno? ANAS ci ha comunicato che i lavori partiranno tra dicembre e febbraio, quindi nei prossimi mesi e la durata del cantiere è di circa 180 giorni, quindi sei mesi circa.